La partita tra Manchester United e Coventry, il Manchester United maglia russa a pantaloncini bianchi vincendo per 2 a 1 ha agganciato al comando della classifica il Liverpool che ha comunque un incontro da recuperare. Vi segnalo che l'Arsenal, fortunato rivale della Juventus in Coppa delle Coppe, ha pareggiato per 1 a 1. Ecco intanto il Manchester United che per questo fallo su Coppel, nazionale di interesse anche europeo in vista del prossimo campionato d'Europa, viene atterrato in area al quinto minuto di gioco da un difensore del Coventry ed è il calcio di rigore che verrà trasformato da McIlroy, come vedremo, ecco l'arbitro che invita a sollecitare le operazioni. Scusate, McIlroy dispone il pallone sul dischetto e trasformerà questo calcio di rigore. Sono alla 41esima giornata in Inghilterra e 58 punti ciascuno per Liverpool e Manchester United. Ripeto però che il Liverpool deve recuperare una partita. Nelle fasi iniziali della ripresa riesce a pareggiare il Coventry con un bel gol di testa del nero Thompson. Eccolo, bello stacco di testa, ha battuto il portiere del Manchester sul traversone dalla destra. Ma poi al 24esimo un calcio di punizione concesso per un otterramento di Lumacari proprio davanti all'area di rigore del Coventry. Ecco il fallo, permetterà a McIlroy, specialista nei calci piazzati, di realizzare anche il gol decisivo. Doppietta quindi di McIlroy con tiri da fermo prima sul calcio di rigore e poi, come vediamo, con questa bella punizione ad effetto. Ecco, era l'ultima immagine di gol che vi proponiamo per ora.